L'emergenza acqua in Puglia non ammette più ritardi o rinvii, è quindi fondamentale innovare le reti rendendo più efficiente l'infrastrutturazione e completando le incompiute. E il grido d'allarme lanciato da Coldiretti Puglia in occasione del sopralluogo con il sottosegretario di Stato dell'Agricoltura, Patrizio Giacomo Lapietra, sulla diga del Pappadai nel Tarantino, un'opera realizzata e mai entrata in funzione che avrebbe dovuto portare l'acqua nelle campagne tarantine e salentine. Oggi sono qua insieme ai colleghi parlamentari di Fratelli d'Italia per rendersi conto di quello che è successo in questo luogo. Oggi qui abbiamo un invaso importante dove sono stati spesi centinaia di milioni di euro dei cittadini e un'opera incompiuta, un'opera invece che potrebbe essere fondamentale per l'agricoltura pugliese. Io sto facendo questi sopralluoghi, stamattina ero a dei congressi per parlare della xylella, per il lancio dell'olio, ma è chiaro che tutto questo non può prescindere da avere a disposizione acqua. Vedere questi sprechi sicuramente è un colpo al cuore, bisogna capire quali sono state le responsabilità e soprattutto agire affinché si possa completare l'opera e dare l'acqua agli agricoltori. La diga del Pappadai venne costruita tra il 1994 e il 1997 in pietrame con manto, con una quota di massimo invaso di 108,5 metri su livello del mare. Mai utilizzata e di fatto abbandonata, ha poi aggiunto col diretti Puglia, che sarebbe utile a convogliare le acque del Sinni per 20 miliardi di litri di acqua, da utilizzare per uso potabile e irriguo e una volta ultimata andrebbe a servire l'Alto Salento, ancora oggi irrigato esclusivamente con pozzi e autobotti.